Nello scorso episodio abbiamo ottenuto l'ascia spaziale, mega, iperforte, 1,2,3, putt'a scramativo E poi sono andato a combattere gli enderskeleton che non so manco che cazzo siano nelle caverne Buona visione Ciao a tutti e a tutti e benvenuti in questo episodio di Stonecraft Allora, ho dato un'occhiata a cosa bisogna fare e ho fatto che qua c'è un bottone Con delle golden nugget che prenderò assolutamente Cos'altro? Realmente è una cosa che spara frecce Perfetto, guarda Chi è il coglione che si mette nel mezzo e fa così? Bellissimo, bellissimo Sto bottone penso mi faccio uscire Ok, perfetto Allora, non cambio nemmeno la texture perché tanto cambia solo la texture del golden nugget Quindi, frutti e sega Se non vi ricordate male E so che vi ricordate male a volte Dobbiamo andare a prendere le bibbie Le bibbie, sì Qua c'è la train center che ci siamo già andati Quindi lo dobbiamo andare dall'altra parte E dobbiamo andare al tempio Al tempio però bisogna prima trovare Qua c'è la forza ma avevo già esplorato Oh, ho il naso chiuso, mi spiasce Non c'è la cosa facci Devo trovare quegli alloggi Ci che ho trovato l'ultima volta, vi ricordate? Qua è la cosa che avevo cercato l'altra volta A beh, questo è il cesso Dove sono? Eh, catraia Morto male Per fortuna giugere Fai mettere una torcia Tanto meno male me ne da sempre le torce Più di qua, andiamo di là Vieni qua Allora Ma mi fa un po' di sce male L'ascia della paura forever del mondo Warehouse Warehouse Oh, qua non ci sono ancora stato E si vede E si vede Cheap hole Ma ce l'abbiamo già nella cheap hole Qua ci sono Sizz e Sugar Li lasciamo qua per ora Ok, devo andare là sopra Non posso piazzare blocchi Non posso nemmeno scavalcare Questa roba Ho una spada con me? Ce l'ho la spada Ce l'ho Non posso non per là Perfetto Perfetto Quindi Ciao Kripa Ciao Qu'ho detto lui Un bottello di charcoal Questa pressure plate Tendrei a non premerle troppo E invece l'ho appena venuta Uh, frecce Ne ho già abbastanza per ora però Qua c'è qua Uh Eh Il vino Dei nani Perfetto proprio Qua si sale ancora Non è dove dovevo andare Ma sinceramente Uno smeraldo Fuck yeah Pusho no feeling Tutte robe che ho già Ci sono pure le fire charge A cosa mi servono le fire charge? Ah, adesso solo che qua Devo fare il parkour E ho fallito Miseramente proprio Parkour, parkour, parkour Lo posso fare Eh, in teoria dove fare la di qua però Qua non ci posso manco andare Come faccio io il parkour? Posso andare da di là? No, è troppo alto Un blocco e mezzo Quello La vedo brutta La vedo molto brutta Da lì poi posso saltare Sì Dove riuscirci Ma vaffacola Ok, la c'erano più avanti Devo trovare la bibbia Devo trovare bibbia Bibbia è mia priorità Ma ci sono già stato Vediamo Uh, la stanza del ricercatore Questa me l'era persa Paura? C'è la cosa con la trappola Ma non c'è niente Di visibile Libra ma flora Holy book Facchia 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 Holy book È quello che mi serviva Vediamo cos'è sta roba Libra ma flora Ah no È semplicemente un libro da portare in giro Tipo l'holy book Perfetto Con il libro Sacro Sacrorum Incula Mamorum Bisogna andare al tempio Il tempio è da questa parte No, qua c'è la forgia Qua c'è il masonry Il tempio A sto punto dovrebbe essere Ah, shrine of vilahan È questo È questo Holy book Accoci qua L'ha fatta I am vilahan I know you seek the crown What the fuck I will relinquish it to you You must first pass the trials Of all my creation C'è Più informazioni Ehi Più informazioni C'è teletrasportato in questo posto Ah, qua possiamo Dare a qualche parte A quanto pare Qui ci sono dei portali Di teletrasporto Immagino Missione Valor Il desiderio di difendere Gli innocenti Dal dolore O dalle ferite Allora Per accettarla Io non so come devo fare Però intanto Buttiamo via Un po' di ste pozioni Un po' di ste pozioni Eh, perché sinceramente Noi abbiamo anche Keep Invento In sta mappa In teoria Da ciò che mi ricordo Allora andiamo dove c'è la spada Oh, dobbiamo salvare i villager Ok Ok Ok, ok Quindi è una missione Buongiorno signor villager L'aiuto io Non si preoccupi Ah, qui spawnano i villager No, non mi morire Io ti devo aiutare Ah, pure Pure la machine gun Praticamente Ah, perfetto Perfetto Non mi fa piazzare Non mi fa piazzare Ok Boom bitch Catroia Devo salvarli tutti Questione personale Ma levati da lì però Quanti cazzo sono? Mori c'è C'è la spada Pube Cosa fa Ma Ah, madonna Cosa sono i vichinghi questi C'è pure la barca vichinga Modici Vai via Vai via Non è utile che saltelli Via Dun 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 Croia quanti cazzo sono Impressive Ok, ok Abbiamo mostrato il nostro valore Possiamo tornare da Valhalla Al Valhalla Possiamo tornare Ma mori pure l'era Grazie Perfetto Siamo riusciti a vincere contro l'orda assassina di zombie E invece no Ok, di qua possiamo tornare al Villanz Valhalla Perfetto Ora possiamo andare a fare l'altra missione Quella del crafting Anilla daylight sensor Don't judge me Place tokens in your step On the pad When done Ok, praticamente devo Craftare delle cose E fin qua C'ero arrivato Ho già con me Degli iron ingot Quindi possiamo subito fare il calderone No, non è manca uno Eh, ho paura che da qualcuno serva un anvil Vediamo quanta gente No, ho dovuto tornare a casa Gli ho bisogno Eh, sì Di una canna alla pesca Infatti Bonsai Smith Ma anvil È che non lo sapevo È che non lo sapevo L'anvil Eh Lo cazzo la trovo io I materiali che fa la anvil Lo cazzo la trovo Ci vuole un bordello di ferro E non ne ho così tanto La si può andare a prendere il ferro E ho appena visto Dei mob De spawnare Aha È un adventure map Mi hanno scordato No E io come faccio No Buco Eccolo Non ci posso prendere niente qui Allora, la stringa Questo possiamo farla Perfetto Uno, due, tre Uno E così ce la abbiamo Dai, dai Perfetto Poi Ehm Ah Iron miners Broco Potete dimmelo subito Vai su Ora posso andare a spaccare tutto il ferro che voglio Che cosa buona e giusta The fuck Questo prima non c'era Catroia Ma non c'è nemmeno Cos'è sto posto Drogati Dammi il nether quartz Drogatissimo lui Proprio Ah Fottisega Uh Lascia stare i miei amici villager Lasciali stare Ma che t'ammazzo T'ammazzo Lasciali stare Mi tocca anche Tenerli d'occhio Sennò a questo Ammazzano tutti Poi io come cazzo faccio Ecco Ecco Già non ne vedo più Dove sono i villager Dove sono Andiamo di là C'è la caverna piena di ferro Che è utile A bestia Devo fare Stainville Quindi madame il tizio Poi c'è il quale Non so dove cazzo lo prendo Perché Dovete andare A casa C'è Nella miniera Dammi il ferro Thank you Mary Butch Eh Shit up Shit up Merda Va nell'acqua No no Te ammazzo Troia Che se muoio Vabbè Mangio un po' di pollo Che sono specchi la carne Perfetto Allora Vabbè Che cazzo è stato Che non c'è manco più la roba Dov'era Ah era qua Ma drogati Drogati è pazzesco Davvero Ma io non lo so Che era una fornaccia Qui Culo 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 Perfetto Allora Cuociamo Questi E Questi Devo trovare Altro ferro Però Un'altra cavernuccia Piena Piena Zeppa Sento anche Di la lava Purtroppo Più possibile A sto punto Che magari Dopo mi serve Anche a casa Che faccio Le armature Succede qualcosa Non so 30 pezzi Dovrebbero più Che bastare Ora posso tornare Al villaggio Che era da questa parte Esatto Ba 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 No per uno Poi Cos'altro mi serve Mi serve Ah il daylight sensor Il daylight sensor Che in teoria Posso già fare Perché ho Yoke voodoo slab Ho questi E ho il quarzo E se non sbaglio Era una cosa Di questo tipo Esattamente Anche il daylight sensor Non l'abbiamo craftato Boia Riprende Questo Mi serve L'anvil E Ma senti C'è anche rotto Un po' il cabazizit Sinceramente Col cuore Ma cos'è Una gita scolastica Devo parlare Che i professori L'hanno organizzata male Bonsai smith Perfetto Così dovrei essere A posto E anche l'anvil L'abbiamo fatta Perché ora Creatiamo il terzo blocco Poi facciamo così Così Ed ecco a noi L'anvil Che mettiamo Qui Quindi abbiamo fatto Della sensor Calderone L'abbiamo Ancora Dobbiamo farlo Quindi lo facciamo ora E basta No No Manca ancora qualcosa Boh Sicuramente mi sembra L'avere messo tutto Te l'ho fatti tutti Vabbò Fotte sega Io me ne vado Dov'è che si va Di là Bella Che troia Se ti è piaciuto questo video E lo intendo Se ti è piaciuto Lascia mi piace Se no Mando una squadra Di gattini assassini A casa tua E lo faccio Sul serio Ciao Ciao Tutti Tutti